La riforma delle ATC. Nel 2014 è stata fatta una proposta di legge che è stata approvata che riduceva da 19 a 9 le ATC, quindi da ambiti subprovinciali a ambiti provinciali. Come avevamo già noi detto all'inizio della nostra legislatura, questa riforma era anticostituzionale semplicemente perché viola la legge nazionale. Hanno proposto in fretta e furia di cercare di rimediare riportando tutto a prima e noi abbiamo chiesto il passaggio a commissione e abbiamo scoperto che in realtà vogliono prorogare questo stato di illegittimità fino a dicembre. Noi contestiamo tutto questo semplicemente perché è il metodo che è sbagliato, passerebbe un precedente terribile e in ogni caso tutto questo andrebbe a detrimento anche di tutta quella che è l'attività delle ATC e noi abbiamo denunciato anche questo in commissione. Niente consiglio regionale questa settimana, solo due sedute di commissione, la prima e l'altra commissione Toscana, Costiera e Arciperma. In discussione della prima commissione abbiamo avuto la proposta di legge della maggioranza al numero 94 che è alquanto come dire buffa. La gestione dei piatti termici rimane nel limbo, nel senso che viene richiesta una proroga ulteriore, ancora che era già una proroga e pertanto non sappiamo chi andrà a giustire questa parte della problematica. In Toscana Costiera e Arciperma, in una seduta qui in regione, abbiamo ricevuto la visita del professor Marco Luise, professore dell'Università di Pisa nel settore delle telecomunicazioni e anche presidente di Toscana Spazio. Dobbiamo tenere presenti anche queste istanze e suggerimenti che ci vengono dal settore delle telecomunicazioni e speriamo che servano a portare avanti e a compimento il piano di sviluppo della costa che questa commissione deve portare a terra entro quest'anno. Questa settimana abbiamo trattato il tema della qualità delle acque balneari, in particolare il problema della qualità delle acque balneari è stato rinnovato il depuratore gestito da Gaia S.P.A., ma a quanto pare questa depurazione non riesce a ottenere i risultati previsti, abbiamo un problema di intreccio tra acque reflui, acque nere e acque bianche, abbiamo avuto problemi di sversamenti in situazioni di pioggia eccessiva. Con questo atto noi chiediamo che la Regione eserciti poteri sostitutivi laddove i comuni non sono in grado di garantire la salute dei cittadini ma soprattutto la qualità delle acque balneari che è un tema strettamente legato a quello del turismo e dell'offerta turistica. Siamo alle battute finali rispetto alla seconda commissione di richiesta sul fortello. Sembra che si possa arrivare a una definizione all'unonimità. In termini di conclusione del percorso si è visto che praticamente c'è stata una vera e propria responsabilità diffusa e mancata di assunzione di responsabilità diffusa da parte di Tribunale, Regione, Politica, Servizi Sociali e Servizi Sanitari. Per questo il fortello ha avuto dei crediti che non doveva avere. Si procederà quasi sicuramente a una proposta di commissariamento ed eventuale indagine anche a livello parlamentare. Speriamo che si vada davvero in questa direzione il che vorrebbe dire che la commissione ha avuto consenso. Questa settimana presenteremo un atto a favore della Polizia Municipale e li abbiamo anche invitati in prima commissione perché vogliamo capire i problemi della Polizia Municipale. Uno dei gravi problemi è quello che non hanno una copertura per lo stato di servizio da parte dell'ILEI, infortuni e così via. Inoltre c'è un'altra cosa grave, la Polizia Municipale viene impiegata in situazioni dove invece dovrebbe occuparsi la Polizia di Stato perché ha prima di tutto l'accesso alla banca dati e ha tutele per certi tipi di servizio, per l'uso dell'arma e così via. La Polizia Municipale non può usare l'arma solo per legittima difesa. Quando deve accedere alla banca dati non può accedere perché deve comunque interfacciarsi con un carabiniere o con uno della Polizia di Stato. Loro quindi sono sfruttati e usati in situazioni dove non dovrebbero essere usati. Quindi la Polizia Municipale chiede chiarezza e noi vogliamo che la Regione accolga le istanze di tutti i cittadini, tutti i dipendenti, tutti i lavoratori della Polizia Municipale che sono tanti in Toscana e hanno bisogno di supporto. Che cosa stiamo facendo oggi? Noi non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi della Toscana con 120.000 euro di stipendi restituiti in meno di un anno dai nostri consiglieri regionali, 100 dei fibrillatori acquistati per strutture e impianti che sono sportivi, che sono di recupero sociale, che sono di incontro sociale. Non vi stiamo dicendo che abbiamo risolto i problemi di questa Regione. Noi vi stiamo raccontando la nostra idea di Paese con una testimonianza ben precisa. Di certo in Europa io non conosco forze politiche che tagliano i propri stipendi e con quegli stipendi fanno partire nuove imprese. A proposito siamo arrivati a circa 2.000 imprese, oltre 2.000 imprese in Italia con i soldi del microcredito e degli stipendi dei parlamentari. Nessuno ci credeva, oggi è una realtà. Ieri mattina ho visitato un negozio in Puglia, ne ho incontrato un altro a Brindisi. Qui ci sono giovani e meno giovani che stanno aprendo un'attività di lavoro con i soldi dei nostri stipendi. Qui ci sono dei consiglieri regionali che salveranno probabilmente la vita a qualcuno con questi fibrillatori. Però noi vogliamo che questo sia chiaro. Noi non ci sostituiamo allo Stato. Noi vogliamo avviare un nuovo modo di essere stato in questo Paese. Grazie. Grazie.